Mai, come nella finalissima degli europei, tutti, ma proprio tutti, faremo il tifo per la Nazionale Azzurra di Calcio. Tra i milioni di sostenitori ce n'è una che ha però un ruolo speciale. È la signora Marianna, 76 anni, mamma di Roberto Mancini. Che dice Roberto? Roberto non dice niente, lui è tranquillo e tranquillizza anche tutta la truppa, diciamo. Quindi quando vi sentite riesce insomma a dare molta calma? Sì, è molto calmo, sì. Molto tranquillo, molto calmo. Voi l'avete seguito praticamente sempre nel corso della sua carriera, però immagino insomma che questa volta sia qualcosa di speciale. Beh, è qualcosa di speciale perché lui è l'allenatore della Nazionale e la Nazionale è un po' di tutti in Italia, no? Marianna ci ha accolto nella sua bellissima abitazione di Iesi con grande eleganza e si è aperta alle telecamere di Vera TV. Lei vedrà la partita a casa? Certo, certo, come sempre. Come sempre e anche come scaramanzia? Come scaramanzia io e mio marito solo, non vogliamo mai nessuno qui per casa. Immagino che però questi giorni abbia telefonato un sacco di gente. Tantissime, specie l'altra sera dopo della partita, l'ultima che c'è stata. È stata anche la notte, i telefoni, i due o tre telefoni sembreranno a squillare. Lei ha seguito Roberto in Inghilterra durante altri suoi grandi successi, questa volta le sarebbe piaciuto andare a Londra? Molto, molto. Sono stata a Londra per lo scudetto che abbiamo vinto con Manchester City. Anche Marianna, come il figlio Roberto, è religiosa e devota a Padre Pio. Io in Padre Pio ho molta fede, quello è vero. Non sono una grossa praticante, Roberto di più. E potrebbe arrivare una mano anche da Padre Pio? Eh, perché no? Vede che noi lo adoriamo tanto, quindi magari lui potrebbe fare qualcosa, solo lui e altri risanti. Noi no, noi non abbiamo questi poteri. Chiederle un pronostico era ovviamente doveroso, ma era altrettanto scontato ricevere una risposta così. Io spero più che altro. Ecco, l'Inghilterra è una squadra forte, corrono tutti come dannati, quindi loro devono dare il 100% abbondante.